E' dedicata all'arte informale la mostra collettiva allestita nelle sale di immagini spazio arte di via Beltrami a Cremona. Il direttore artistico Dino Cecconi ha fatto spazio per due settimane ad otto artisti italiani provenienti da tutto il paese e accomunati da due elementi fondamentali, l'attenzione alla forza comunicativa del colore e la propensione all'innovazione dalla sperimentazione artistica, come ha evidenziato il critico d'arte Gianluigi Guarneri presentando la mostra al pubblico cremonese. Artisti che comunque credono nell'informalità ma che non guardano ovviamente all'informalità come un punto di arrivo ma un punto di partenza. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! La collettiva allestita nelle sale di immagini spazio arte di via Beltrami a Cremona resterà a disposizione dei visitatori fino a sabato 18 giugno.